La Hall dell'Agenzia sembra la reception di un albergo internazionale. Spazio enorme, arredi essenziali e ben piazzati, in modo accogliente ma senza che ci si senta invogliati a trattenercisi davvero, e un bancone al quale potrebbero lavorare comodamente sei persone, ma dove c'è solo la segretaria amministrativa, Marta Zefiro, donna attempata ma vivace, che nel tempo ha preferito puntare sulla compostezza anziché sulla avvenenza caratteristica questa inflazionata nell'ambiente. Conserva, dietro a quegli occhiali di tartaruga, che a volte si ha l'impressione lei porti come un vezzo, più che per necessità, la memoria storica delle produzioni degli ultimi venticinque anni. Chi volesse organizzare un ricatto o una vendetta non avrebbe archivio migliore da cui attingere. D'altro canto, lei ha fatto della affidabilità il suo vessillo e della riservatezza il suo abito. Non si rimane così a lungo in certe posizioni senza quelle virtù. Accoglie i due uomini con un sorriso appena accennato. Mi ha chiamato il dottor Reggenti, so cosa è successo, mi dispiace, dice a Mike. Poi, rivolta a Sandro, aggiunge, sono a vostra completa disposizione. Abbiamo bisogno dei fascicoli del casting degli ultimi sei mesi. Lei lascia il suo posto per un paio di minuti e va in un'altra stanza. Al ritorno appoggia quattro faldoni proprio davanti a loro. Questi sono solo l'ultimo trimestre, dice. Vado a prendere gli altri. Aspetta, iniziamo da qui, fa Sandro, tirandone uno verso di sé. Lui e Mike vanno a sedersi su due poltrone accostate. Cominciano a sfogliare. Sandro gira le pagine, Mike tiene la fotografia del loro ricercato in bella mostra. A un certo punto ne vede uno che gli assomiglia. Mettiamolo da parte, dice Mike. D'accordo, dice Sandro. Li confronteremo dopo tutti insieme. Poi, rivolto a Marta, aggiunge, possiamo tirar fuori quelli che ci interessano? Certo, fa lei. Sono numerati. Li rimetterò a posto io quando avrete finito. Fascicolo dopo fascicolo, i candidati diventano dieci, poi venti, infine ventisette. Tra questi c'è il nostro uomo, dice Sandro. Dobbiamo trovarlo. La mezz'ora successiva passa tra raffronti analitici, discussioni sui dettagli, la diversa posizione dell'inquadratura, se quelle foto siano più o meno aggiornate. Poi Mike dice, aspetta. Punta l'indice su una foto che inizialmente era passata inosservata. Avvicina la sua. Le guarda per un po', poi dice, è lui. Sandro non sembra convinto. Guarda il naso, fa Mike. Vedi questa prominenza? È identica. Sandro annuisce in silenzio, continuando a guardare. E anche il mento è uguale, aggiunge Mike. Ernesto Tigna, 42 anni. Uno di quei classici volti italiani che, visti una volta, non si ricordano più. Marta, fa Sandro, abbiamo bisogno di un favore.